Questo è un pannello luminoso che cattura l'intensità del suono. Se i bambini parlano con un tono basso, i colori saranno temi, mentre invece se i bambini utilizzeranno un tono più alto, ecco che i colori cambieranno fino ad arrivare ad un'intensità di colore al rosso. È un gioco molto bello anche per i bambini perché ci offre lo stimolo risposta, dal dove i bambini pulseranno appunto con una tonalità un po' più alta o un po' più bassa, i colori cambieranno fino ad arrivare a volte anche a mantenere un rosso fermo, un rosso fisso. E allora lì i bambini capiranno che probabilmente la tonalità è anche troppo alta e lì si può giocare anche a far capire loro che a volte c'è necessità anche di abbassare un cucchino il toro di origine. No, 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 no.